Noi siamo persone, dobbiamo calcolare famiglie, figli, bambini, ci siamo innamorati qua dentro, ci siamo sposati, poi arriva un bel giorno, ti arriva, sai, il 21, ciao ciao, arrivederci, di un po' quello che vuoi fare. Quindi stiamo rimanendo sul fronte unito, stiamo combattendo, ci stiamo arrabbiando, ma non molliamo. Non siamo assolutamente soddisfatti di quella che è la mediazione attuale, né da parte del governo, perché se Teresa Bellanoma pensa di aver risolto così, siamo ancora lontani dalla risoluzione. La risoluzione dell'avvertenza almariva è semplicitativa per quanto concerne tutto il pezzo dei call center. L'azienda, per come si sta prospettando la trattativa, vuole dai lavoratori sacrifici troppo importanti. Sacrifici troppo importanti a confronto di un tempo che ci viene chiesto, di circa sei mesi, che non dà nessuna certezza ai lavoratori per il futuro. Quindi lo stato d'animo dei lavoratori è molto agitato perché vengono chiesti grandi sacrifici a fronte solamente di un periodo di ulteriore incertezza di sei mesi durante i quali il governo si sarebbe impegnato a fare grandi cose.